Occhi magnetiche, si guardano l'entrante un punto di riferimento delle vostre intelligenze. Non abbandonatelo, ma vi salutiamo, amanti e pittorelle, ovunque voi siate e trasmettiamo a Bello Chirotti e a tutti coloro che sottolineano ovunque se siate, la nostra paderna solare di umidità e l'illusione sogniera di dubbiose di un'azio.